Perchè questo suona soltanto? Cosa? Perchè? Perchè è una scheda vecchia. Ah! Non sono fatte, le altre non le hai fatte? Le ho fatte due? Le spedes? No le spedes ho fatte e le abbiamo fatte anche queste. Quindi approfittare, vedi, fate qua. Vedi però lui ci sta pregando perché ha messo tutti i cepotelli anche la spiegazione che non abbiamo messo. Eh, ma scusami, non è vero, io ce l'ho messa e anche Alberto ce l'ha messo con un vocabolo. Allora, non io, sto io. Eh, bisogna essere di chiudere. Va bene, questo come in versione generale è bellissimo, veramente. Noi io sono d'accordo, io riesco. Difficoltà del lavoro, insomma, non è, però. Nel mio è anche facilissimo. No, no, non è la sua cosa. Non è, 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 non è. Ma queste sono. Difficoltà del lavoro. La posizione. Federità alla scala, penso che vada bene. Sai che ti devi portare un po' di colore, però che si sta stancando? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Allora, Federità alla scala, senz'altro penso anch'io come il nostro. Completezza dei dettagli, no, mi dispiace, ma non ci siamo. Allora, c'è un'esecuzione, ma non ci siamo proprio. Però, però, c'è un'esecuzione, però, c'è un'esecuzione, però, c'è un'esecuzione. Nella mia nave, nella, nella pancia, nella telecamera. Eh, 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 sì, sì. Così... Quella è, ecco, è, è valido metterla. Ecco, vedi? Questa qui proprio si chiude, questa si stringe. Vedi? E poi, se vogliamo, possiamo anche arrotare questo cosino qui. Ma, penso tu. Che, va dai. Scusa, non ti avevo fatto vedere. No, questa non l'avevo vista. Non l'avevi vista, la nuova. Simpatica, eh. E beh, insomma... Ci manca, ci manca, il trago. Quindi, quindi, ci saranno i modelli sopra, sarà difficile perché riuscire a smontare i teli. Insomma, i teli ti ricordi via te. Ah, perché sì. Ehi. A me, buongiorno. Ma, non è morti di rete, anche con i puri, e lascia in macchina. Sì, no, no. Poi, io le risiede, perché non mi scavano. Non c'era. La termostina. No, no. Perché? Non si è danno. Non penso io. Questo ho i toni di chi. C'è avuto dei volti bruttissimi. Molto. È semissime, per qui, eh. Ah, il muoio è cambiato. Questo non c'era. Cioè, Paolo, domani verrà un miraglio. Buon saluto. l'ho sentito per telefono per i miei ma purtroppo domani non ci sto quindi l'ammiraglio l'ambiraglio fondante è un po' mi sono chiusato tutti gli spedizioni fare il rapporto con tutti come al solito l'ammiraglio ma quelli che ci sono fa qualche pezzo mi ha detto lascia questo qua poi rimangono qui perché domani continuano concentriamo tutti sul tavolo tutti sul tavolo o prima o sul tavolo anche di fianco sotto l'inizio guarda qua di su si non mi ha detto la roba la roba la roba la roba la roba guarda perché un omoglio che si troni da una parte Claudio, Alessandro e Maurizio. Ma il ricorso non ce ne sta affatto. Due porta relato, due porta Maurizio e due porta Alessandro e tre o quattro porta Maurizio. Tu hai fatto la valutazione della Carizzo? Che cosa? La valutazione della Carizzo? Della Carizzo? Beh, allora... No, è una carta? Adesso? Sì. Eh? Ma a lui piace il vetri? Ma non è la Carizzo. Ecco qui. No, mi sono sbagliata. Perché ho detto non so dire. Non lo so, ma c'era qualcosa che non andava. No. Sono stata frettolosa. Ecco. Allora io questa non me la faccio da solo. No, beh, no. Non è. Non è. Non è da sotto la scultura. Orchidea non c'è, non c'è domani. Assunta. Ci vediamo Giovazzini allora. Vieni. No, vieni. Vieni, vieni, vieni. Ciao. Scusate. Eh no, caro. Ma pure il libretto. Ma non è possibile. Vabbè. Vieni. Scusate. Ma non ti barbino questo? È un colpo basso. Scusate. Non c'è pure, mamma mia. Un po' puoi. Tu. MaTORI. Come sono voi? Non ho proprio il to fürs, ma che professioni tu. Grazie. Chi è questo, Tontini? Quando mio padre ha comprato i terreni lì, c'erano ancora i cartelli, erano tutta zona minata, zona minata. E io personalmente ho trovato un sacco di bombe, di proiettili, di cose. E io personalmente ho trovato un sacco di bombe, di difficoltà del lavoro. E no, assolutamente. Grazie. 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 Grazie.